22esima domenica del tempo ordinario ascoltiamo questo testo che ci immette in una discussione fra i farisei e gesù tutta centrata sulle tradizioni delle regole ebraiche lavarsi non lavarsi con abluzioni rituali e cose che sono lavatura di bicchieri di stoviglie di oggetti di rame di giacigli tutte queste cose qua perché noi le dobbiamo ascoltare questa diatriba fra gesù e questi farisei che si vedono apostrofare come uomini dal cuore lontano dal signore che rendono culto insegnando dottrine che sono presenti di uomini così dice appunto questo vangelo ma perché noi dobbiamo ascoltare questo testo ecco noi dobbiamo considerare che ciò che ci è stato consegnato dai vangeli è stato consegnato dalla liturgia cristiana i cristiani celebravano le memorie degli apostoli e come dice il concilio vaticano secondo scegliendo piano piano nella redazione dei vangeli ciò che serviva alla chiesa ciò che era utile allora questo testo è utile a noi ma sembrerebbe una cosa del tutto datata chiusa in un momento in un tempo che è il tempo di gesù il tempo di tanti anni fa come ci può riguardare questa diatriba ecco questo tipo di argomenti questo tipo di problemi ce li abbiamo sempre in tutte le epoche se la chiesa ha dovuto ricordare questa discussione è perché questa discussione è sempre in atto che cosa questo mondo di relazioni fatte di forma fatte di regole fatte di tradizioni che diventano più importanti della verità più importanti della realtà nella chiesa primitiva si capì subito che il problema dei farisei non era il problema dei farisei era il problema dei cristiani che diventavano farisei di cuore ovvero sia cosa gente che cerca la propria giustizia e nella ricerca della propria giustizia sposta il baricentro dalla verità dal cuore dall'origine delle cose dalla profondità delle cose alla forma delle cose questo sistema fatto a sensi di colpa fatto a compimento di regolette e regolette e regoline ce lo abbiamo sempre e ci scivoliamo tutti inconsapevolmente perché le regole sono più facili della conversione perché cambiare gli atteggiamenti esterni è molto più facile che cambiare gli atteggiamenti interni infatti cosa fa gesù dice non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro uno può cercare di dimostrare che il problema viene dall'esterno o dalla forma delle cose no dice gesù sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro dal di dentro dal cuore vengono i propositi di male e fa questa sfilza di nomi tragici impurità furti omicidi adulteri avidità malvagità inganno dissolutezza invidia calunnia superbia stoltezza queste sono le cose cattive che vengono dal di dentro e allora qual è il problema il problema è avvicinarsi al tema della nostra verità della nostra bellezza cercando di cambiare lo chassi cercando di cambiare la carrozzeria cercando di rifarci l'estetica farci un'estetica cristiana fare cose che esternamente riescano a aggiustare la nostra realtà non ci riusciremo mai perché i nostri atti sono frutto di una dinamica vengono da un'origine uno non arriva a fare un peccato perché in quell'istante lo fa ma perché c'è stato un processo interiore che parte da un livello profondo noi possiamo tentare di aggiustare l'uomo a valle cercheremo di perfezionarlo nelle sue cose visibili noi faremo semplicemente una verniciatura di giustizia su una dinamica interiore ancora da convertire ancora da redimere le cose si aggiustano all'origine è il cuore il nostro problema perché anche il cuore la nostra soluzione le cose cattive che facciamo non sono semplicemente le cose cattive che facciamo sono il frutto di una dinamica sono la risultante di una menzogna accolta nel cuore dietro ogni nostro peccato c'è una menzogna che alberga nel nostro intimo dietro le impurità dietro i furti omicidi edulteri e compagnia cantando non c'è semplicemente la disobbedienza ad una regola ma una dinamica storta che si è assecondata dentro di noi guarire non è semplicemente fare meglio ma nascere dal bene noi non possiamo cercare di fare i cristiani abbiamo bisogno di essere cristiani non possiamo fare i figli di dio abbiamo bisogno di rinascere dall'alto come dice il capitolo terzo del vangelo di giovanni ciò che è fero della nostra vita è ciò che è generato nel profondo noi potremmo anche vedere persone che sono disposte insieme a noi a fare tante opere di carità e a fare servizio ma non sono disposti neanche lontanamente ad aprirsi su un loro atteggiamento interiore si può essere certe volte anche disponibili a fare tante cose buone senza cambiare neanche lontanamente il cuore e quelle cose buone sono solamente uno spot un apnea in mezzo ad altre cose che sono quelle che veramente abbiamo a cuore il nostro cuore ha bisogno di cura puoi lavare bicchieri stovigli oggetti di rame e non risolvi niente c'è da purificare il cuore se non entriamo in questa logica che è una logica costante di purificazione cioè un lavoro profondo e onesto al cospetto del signore di verità e di liberazione se noi non entriamo in questa logica che è una logica ripetiamo costante noi faremo i cristiani e non saremo cristiani faremo finta di amare ma in realtà per noi l'amore sarà solo uno sforzo sarà solamente una pantomima sarà una maschera che ci mettiamo ecco quanto è profondo questo vangelo che ci chiede di andare al cuore entrare nel cuore e metterci profondamente in discussione questo è molto buono e apre alla salvezza e alla visita dello spirito santo